Torna ad attaccare l'esecutivo il Movimento 5 Stelle, scrive Luigi Di Maio su Facebook Renzi ci ha riportati in recessione, servono misure d'impatto per abbassare la pressione fiscale ai piccoli e medi imprenditori e istituire un reddito di cittadinanza per chi non ha nulla Parlare di articolo 18 mentre le imprese chiudono perché soffocate dal fisco è un esercizio retorico Bisogna immediatamente abolire l'IRAP con un provvedimento urgente almeno per le micro imprese Questa è la ricetta del Movimento 5 Stelle